Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, call 40 meter band, call and stand in by. Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, call 40 meter band, call and stand in by. Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, call 40 meter band, call and stand in by. Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, call 40 meter band, call and stand in by. Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, call 40 meter band, call and stand in by. Siku Sota, Siku Sota, Siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, call 40 meter band, call and stand in by. Siku Sota, 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 Siku Situ, 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 S Monteto Marlo, thank you my friend, bye bye 73, thank you, sicusota, 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 Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable, QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec, Sierra Portable, QRP, call 40 meter band, call and standing by, Radio Ontario, Radio Ontario, Radio Ontario avanti. Perfetto, Italia Kilo 3, Delta Radio Oscar, 5,9 per il log, ma arrivi molto molto bene, referenza Eco Romeo 3,1,4, QSL. Ciao 73, scusami il QRP, ma magari anche le batterie staranno dicendo basta, c'era un'altra chiamata, avanti. Ok, Italia Whisky 5, avanti. Italia Whisky 5, America, Brasile, scusa per il giro voce, ma ho un problema in bocca, 6,5, 7, quigli areale, Gisberto, voto i giudici, QSL. QSL, io ti ripeto il nominativo, Italia Whisky 5, Alfa Bravo, corretto? Corretto, sole dove metti, all'imbaracca, tranquilla, ciao, 73. Ciao 73, QRZ. Hotel Bravo 9, ciao. All'avanti l'hotel Bravo 9. Ciao, buongiorno, sono Flavio, HB9, Ecoflorida 2, 6, 5,9. Perfetto, HB9, Ecoflorida, Giuliette, 5,9 anche per te, referenza Eco Romeo 3,1,4, ciao e buona domenica, QRZ. Ciao. Ciao. Italia Whisky 1, Papa Nancy Juliet, 5,9, QSL. Ciao, buongiorno, sono 9 e 10 a faremo, ciao, grazie da Martino. Ciao, grazie Martino, buona domenica, QRZ. Allora Italia 4, Delta Radio Yokohama, corretto? Ok, Italia Kilo 4, Delta Radio Yankee, ti facevo più vecchio, ciao, 73. Italia Kilo 4, Imola, Domodosola, Firenze, 5,9 per il log, ciao, 73. Ciao, grazie, benvenuti. Lima, november, taglio, il nostro Lima, l'Utel, Lima, l'Utel, Lima, l'Utel. Un attimo, Lima, november, Lima, november, avanti. Buongiorno, qui Italia, chilometro 6, hotel, Lima, november, Gianni Ascoli, vicino, 5,9 reali. Ok, Italia Kilo 6, hotel, Lima, november, 5,9 per il log, referenza Ecoromio 3,14, arrivi molto, molto bene. Ciao, 73, buona domenica. Noi, grazie, anche tu, arrivi molto bene in Ascoli, ciao, ciao, un abbraccio. Delta Lima, Delta Lima, over. Delta Lima, over. Delta Lima, 4, Mike, Alpha, is correct. Ok, sorry, many, many QRM, many, many QRM. The reference Ecoromio 3,14, your report is 5,9, but many, many QRM. Thank you for this call, this QRM, bye bye, and 73. No, thank you for the report, the news, 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 Italy, Chile, or Lima, l'Utel. Italia Kilo 4, Lima, Zulu, hotel, è corretto? I capo 4, le due parte, Gianluca, 6,59, via, la Bologna, ciao. Ciao, 73, buona domenica, QRZ. Italia Kilo 2, Oscar Eco, Oscar Eco, avanti. Italia Kilo 2, Victor, Oscar Eco, 5,9, la Bologna. Perfetto, Italia Kilo 2, Victor, Oscar Eco, 5,9 per il log, referenza Ecoromio 3,14, QSL. Ok, QSL, grazie, ciao. Ciao, 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 ciao. Nancy, Nancy, nel colo. Delta, 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 Zero, Victoria, Echo. Delta, Delta, Zero, Victoria, Echo, is corrett? Auto, 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 is corrett. Come, 3x3, 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 call it up. QSL my friend, Delta Delta Zero Victor Echo, your report is 5-9 for the log, reference Eco Romeo 3-1-4, Eco Romeo 3-1-4, thank you for this QSO, bye bye in 73. Ok, Z1 Juliet Chilo Hotel, 5-9, arrivi molto molto bene, referenza Eco Romeo 3-1-4, QSL. 73, grazie a voi, buona giornata, QRZ? Z2 Golf Mike Foxtrot, ok, Z2 Golf Mike Foxtrot, è corretto? Questo è corretto, 5-9 il tuo segnale. Grazie, 5-9 anche per te, arrivi molto molto bene, referenza Eco Romeo 3-1-4, Monte Tomarlo, ciao buona domenica. Sì, grazie, con tanto e buona attività, ciao buona domenica. Italia 4, Ancona, Bologna, Genova. Ok, Italia 4, Bologna, Ancona, Genova, è corretto? Italia 4, Ancona, Bologna, Genova, ti passo anche il 5-9, cazzo? Ok, scusami, Italia 4, Ancona, Bologna, Genova, 5-9 per il log, referenza Eco Romeo 3-1-4, Monte Tomarlo, ciao e buona domenica. Ok, grazie, buona domenica anche a te, ciao. QRZ CQ40, 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 CQ8, Italy, Zulu, Ford, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP Call, 40 meter band, call and standing by. Sugar 5, 6, India, Hotel X-Ray. Ok, Sugar 5, X-Ray, please complete your call. Sugar 5, 6, Italy, Comeru, X-Ray, India, Hotel X-Ray, Roger. Ok, Sugar 5, Italy, Hotel X-Ray, is correct? Roger, 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 5-9, 5-9. Ok, Marian is correct, my name is Alessandro, your report is 5-9 for the log, reference Eco Romeo 3-1-4, Monte Tomarlo, back to you my friend. Roger, 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 Alessandro. Thank you, Soltapoint. Good weekend, 73, bye bye. 73, bye bye. Siku sota, siku sota, siku sota. Italy, Zulu, Ford, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP. Italy, Zulu, Ford, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP. Call, 40 meter band, call and standing by. Italia, chilo 5, whisky, Oscar, bravo. Perfetto, Italia, chilo 5, whisky, Oscar, bravo, 5-9 per il log, referenza Eco Romeo 3-1-4, QSL? Sì, QSL, grazie mille. Ciao, ciao, buona attività. Ciao, buona domenica e grazie. Corre Z. Corre Z. Allora, io ho sentito Angelo in Cesena che augurava felici collegamenti. Ok, ciao e buona domenica. Sì, ci siamo giunti di prima, stai facendo dei collegamenti su temi. Ciao, ti mando un altro spot. Ok, ti ringrazio. Ero un attimo distratto perché stavo notando che sulla neve le formiche a passeggiare non le avevo mai viste. Ah, bellissimo. Ok, Alessandro, poi voglio vedere le foto. Ciao, 73, continua. Ciao, 73. Papà, papà, Mike. Ok, Italia, whisky 1, papà, papà, Mike, 5-9 per il log, referenza Eco Romeo 3-1-4, QSL? QSL, QSL, 5-9, arrivi a Sanremo, arrivi bene, ti ascolto molto bene. E ti ringrazio per questa nuova referenza, grazie, buona giornata. Buona giornata anche a te, grazie a te che mi fai divertire, che mi permetti di andare su per i monti e parlare con la radio. Ciao, 73. Ciao, 73, Italia, Zelanda 6, America, America, whisky. Perfetto, Italia, Zelanda 6, America, America, whisky. 5-9 per il log, referenza Eco Romeo 3-1-4, QSL? QSL, QSL per Eco Romeo 3-1-4. Mi ripete l'indicativo per favore? Qui il nome è Paolo, IZ6, Alfa, Alfa, whisky, QDH, Mogliano, la provincia macerata. Cambio. Ok Paolo, qui il nome è operatore Alessandro, il nominativo è Italia, Zelanda 4, Victor, Quebec, Sierra, Italia, Zelanda 4, Victor, Quebec, Sierra, Barrato Portatile, Barrato Portatile, Barrato Portatile, Italia, Zelanda 4, Victor, Quebec, Sierra, Barrato Portatile, grazie, buon divertimento sulla neve, ciao. Ciao, 73, QRZ.